La rivelazione era stata lanciata alcuni giorni fa da un quotidiano che riportava le ultime intercettazioni ambientali in carcere tra il boss cordionese detenuto al 41 bis e un altro detenuto durante l'ora d'aria. Rina addirittura parlava di un colpo di genio nel preparare l'attentato di Via D'Amelio e cioè la decisione di nascondere il telecomando per azionare la carica esplosiva nel citofono dello stabile dove abitava l'anziana madre del giudice Borsellino. Insomma per Rina sarebbe stato lo stesso Borsellino ad azionare l'impulso. Il clamore per questa versione aveva però fin da subito lasciato il posto a molti dubbi ad iniziare da quelli relativi ad una tecnologia estremamente sofisticata e probabilmente non ancora reperibile da cosa nostra almeno nel 92. Adesso Rina viene smentito da quattro pentiti che in questi anni si sono autoaccusati anche della preparazione dell'attentato e le loro dichiarazioni entrano in sentenze definitive della Cassazione. Giovanni Battista Ferrante, Fabio Tranchina, Gaspare Spatuzza e Salvatore Cancemi dicono chiaro a tondo che il telecomando fu posizionato nelle vicinanze della strada in un punto dove l'osservazione era ideale. Resta allora un dubbio. Che cosa sta facendo Totorina? Le sue sono soltanto vanterie di un vecchio oppure c'è un disegno più sottile? Grazie. 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 Grazie.